Oggi cuciniero la carbonara migliore possibile. Per farlo ho dovuto comprare gli ingredienti pilastro, il guanciale, gli spaghetti, le uova e il pecorino romano, perché se è di altri posti non va bene. Quindi mi sono messo all'opera, ma per farla venire bene mi sono calato completamente nella parte. Chiedo scusa ai miei followers romani. Successivamente ho scolato, mescolato ed era pronta per essere assaggiata. Se chiudo gli occhi mi sembra di essere a Roma. Invece sei a Milano e questa carbonara l'ha fatta un Veneto. Niente, mi dispi.